temperatura e tempo sono due variabili fondamentali in cucina soprattutto nelle cotture al forno oggi vi voglio svelare qualche segreto per preparare al meglio un classico della domenica galletto al forno e patate per un risultato perfetto ho bisogno del galletto delle patate e degli elettrodomestici Siemens taglio le patate senza privarle della buccia le sbollento per 5 minuti in acqua leggermente salata e le metto da parte a raffreddare con salvia, rosmarino e timo preparo un trito di erbe fresche e aglio faccio ammorbidire il burro e unisco una parte delle erbe tritate aggiungo la scorza grattugiata di arancia e limone e insaporisco con pepe e sale in una teglia metto le patate condisco con olio extravergine di oliva e la parte rimanente di erbe tritate ricopro completamente il galletto con il burro aromatizzato e lo posiziono al centro della teglia imposto il forno a 190 gradi e lascio cuocere per 45 minuti ecco il galletto al forno e patate per una domenica dal sapore speciale e adesso busta alla perfezione siemens the future moving in